Con l'avvio del nuovo anno accademico, i problemi storici che affliggono gli studenti universitari a Teramo tornano prepotentemente alla ribalta. Trasporti, alloggi e spazi per lo studio sono i temi cruciali che continuano a rappresentare delle vere e proprie sfide per chi vive il capoluogo aprutino nella veste di universitario. A sollevare nuovamente la questione è l'Udu, l'Unione degli Universitari, che da anni si batte affinché Teramo diventi una città a misura di studente. Come l'Unione degli Universitari di Teramo, da anni denunciamo una situazione che oramai è divenuta insostenibile per noi studenti e studentesse universitarie. Il recente aumento dei prezzi ai biglietti e al trasporto pubblico sono solo una goccia che fa traboccare il vaso. La mancanza di residenza pubblica, la mancanza di spazi dove poter studiare e fare aggregazione in centro, la mancanza di una mensa che ci offre un pasto caldo la sera. Tutte queste criticità ci portano a pensare che Teramo, tutto sommato, gli universitari non sono proprio i benvenuti. Per quanto riguarda il trasporto abbiamo detto che il prezzo era troppo alto e lo è ancora di più ora che ci sono stati gli aumenti, ma in realtà tante problematiche derivano soprattutto poi anche dal fatto che non ci sono corse serali, che quindi tagliano fuori gli studenti, non c'è un collegamento generalizzato con le aree periferiche, compresa magari con le parco che è dove c'è l'università e poi comunque la mancanza di un abbonamento specifico per noi studenti universitari che comunque tutti i giorni ci viviamo nella città e che ci permetterebbe appunto di soffrire il servizio a dei costi agevolati. Senza un impegno serio e coordinato per migliorare i trasporti, incrementare l'offerta di alloggi e potenziare gli spazi per lo studio, il rischio è che la città continui a essere percepita dagli studenti come un luogo che non riesce a soddisfare appieno le loro necessità, compromettendo l'attrattiva e la qualità dell'esperienza universitaria a Teramo. Perché poi altrimenti lasciamoli che gli studenti vadano sempre via dalla nostra regione invece che farli studiare qui e comunque farli rimanere qui nella nostra regione. Noi abbiamo il diritto sia di poter scegliere di andarcene, sia appunto dobbiamo avere il diritto di poter rimanere nel nostro territorio e nella nostra regione.